Allora amici di Calcio Passo, oggi non c'erano molti argomenti da trattare per cui ho fatto uscire un video, anzi andatelo a vedere, un video del 2015 addirittura l'ho ripostato che parlava di Ibrahimovic alla Roma perché oggi ho letto Ibrahimovic alla Roma andatelo a vedere e adesso invece rispondiamo alle domande come sapete insomma io ogni giorno formulo una richiesta di domande sulla community YouTube voi fate tipo 10, 11, 12 domande quelle che sono io poi chiudo il post mi segno le domande ovviamente e do le risposte Bene, allora iniziamo con Salvatore Spezzati o Spezzati, non lo so La Lazio riuscirà a competere per lo Scudetto o caleranno e noi della Roma li superiamo? La seconda che hai detto caleranno e noi della Roma li superiamo anche perché la Lazio negli 11 ha una squadra abbastanza buona nel senso secondo me non è buona in tutti gli effettivi però c'ha comunque soprattutto dalla cintola in su cioè in attacco dal centrocampo diciamo all'attacco dal centrocampo propositivo ma anche di interdizione perché comunque lei va secondo me un buonissimo centrocampista però insomma a livello difensivo tolto ovviamente il Acerbi tolto Acerbi tolto Acerbi secondo me il resto è abbastanza rivedibile per cui non avendo una rosa all'altezza della situazione prima o poi caleranno e noi della Roma avanzeremo andiamo con la seconda ovviamente è studiazione se stavano a fare scongiuri ma a me non me ne frega niente il mito il mito 250 come finirà la serie B? facci la tua classifica tutta dall'inizio alla fine andiamo un po' a vedere in tempo reale real time classifica così mi aiuto perché se no a memoria magari allora il Benevento lo abbiamo detto secondo me è primo magari potrà sicuramente perdere qualche punto strada facendo vuoi che ne so la stanchezza vuoi l'appagamento ma secondo me ha la rosa più strutturata per fare il salto poi attualmente c'è Bordenone Frosinone secondo me il Frosinone è comunque una squadra costruita per fare il salto e lo farà vedo anche un Chievo che secondo me guadagnerà posizioni e non lo so la sorpresa potrebbe essere io spero finalmente perché ci è arrivata a tanto così potrebbe essere il Cittadella io spero anche nella risalita del Crotone che comunque credo abbia una rosa adeguata per puntare alla Serie ovviamente zona playoff ci sono Benevento secondo me ci sono squadre un po' più strutturate il Cittadella se lo meriterebbe dopo comunque lo scorso anno che è arrivata a tanto così secondo me un saltino in Serie A un affaccio in Serie A se lo meriterebbe non mi fate fa' tutta la classifica perché diventa un po' stucchevole andassi a riscrivere tutto quanto io le leggo in presa diretta non me le preparo le risposte così è più divertente mentre invece per quanto riguarda la retrocessione Trappani e Livorno le vedo messe male 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 e poi per il resto sarà insomma una bagarre tra che cos'è Juve Stabia Cosenza e Venezia secondo me se la giocano queste qua insomma ecco tutte le altre poi se la barca menano saranno in zona playoff in questo mezzo c'è il Pisa che sta crescendo non si può fare una una previsione sulla Serie B che cambia da un mese a un altro la classifica è molto schiacciata per cui se perdi se perdi due partite sta in zona retrocessione sta in zona playoff e se ne vinci sta in zona playoff quindi ecco ho detto più o meno secondo me chi sale chi se la gioca e chi se la gioca per scendere e quindi ringraziamo il mito 250 poi abbiamo Daniele Danierone delle Rose secondo te chi vincerà lo Scudetto e poi chi vince la Champions League e l'Europa League allora 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 io dico lo Scudetto quest'anno penso poi l'Inter penso l'Inter perché la Juventus secondo me può fare un percorso di avvicinamento alla Champions non la vince perché secondo me la rivince il Liverpool e l'Europa League l'Europa League a Roma no non lo so una squadra inglese fate voi Wolverhampton Pastore Cuccio Cuccio 66 scrive Pastore nonostante qualche miglioramento non sarebbe meglio cederlo anche sui 10 milioni perché continua comunque a rompersi e per risparmiarsi il pesantissimo ingaggio di 4 milioni e mezzo il secondo più pesante dell'intera squadra per i prossimi 4 anni dato che l'anno scorso ha firmato un quinquennale allora credo anch'io che sia meglio cederlo perché comunque nonostante la grandissima affidabilità tecnica Pastore se si mette a giocare a calcio non ce n'è per nessuno non c'è Lorenzo Pellegrini non c'è nessuno con quella qualità dei giocati però purtroppo come hai detto giustamente anche te ogni 2x3 è rotto per cui se riuscissimo a metterlo in vetrina che poi capito sparisce e tu ti chiedi ma che c'è ma mica sei rotto Tibio e Perone perché è sparito da un mese e si sa più niente non lo so sarà molto difficile devi trovare un amatore uno che ci crede veramente perché sarà molto difficile cederlo e per cui non so che dirti speriamo Antonio Buonarigo ci scrive non capisco perché i presidenti dell'avversario e della regina si lamentano sempre ho visto tutte le partite ha sempre dominato in casa e fuori saranno un po' invidiosi tranne eccezioni credo vedi Teramo e Viterbese allora io dico che non ho visto tutte le partite della regina perché poi spesso mi si accavalla con altre partite anche soprattutto quando gioco alla Roma io non posso seguire seguo soltanto la Roma poi scelgo che ne so settimanalmente le partite da seguirmi perché io so uno non ho una redazione per cui non me le posso seguire tutte poi mi trovo sempre gli highlights estesi e mi guardo anche a me sembra che la regina sia una squadra che crea dalle 8-10 occasioni reali cioè reali nello specchio della porta a partita per cui che ve devo dire insomma a mio avviso la regina merita ampiamente perché se non meritasse ampiamente di stare in quella posizione non ci starebbe con tutto quel margine di vantaggio per cui le lamentere ci stanno magari l'aiutino ogni tanto ci può anche stare però poi il resto lo fa la rosa di qualità che il presidente ha costruito e e che molto probabilmente la porterà alla promozione il prossimo anno tutti si staranno a fare gli scongiuri però io dico quello che vedo cioè campione d'inverno una prima parte del campionato strepitosa e una qualità della rosa che si vede che è tangibile per cui insomma Mario Marione il grande Mario 83 tifoso della Lazio dedico un pensiero al mio mito Ezziolino Capuano che sta facendo un qualcosa di straordinario da quando è subentrato a Ignoffo un vero mito un uomo vero in un calcio finto che ne pensi Andrea io sono pienamente d'accordo con te praticamente mi dà l'idea cioè io quando vedo Ezziolino Capuano quando lo sento parlare mi vengono in mente gli allenatori di una volta che te posso dire i giagnoni i fascetti i bersellini cioè quegli allenatori i pane e salami i bagnoli i radici te ne potrei tanti potremmo star a parlare veramente fino a domani Carletto Mazzone eccetera veraci capito che te dà per noi insomma che siamo un po' più attempati tu hai dieci anni meno di me ma te dà proprio quel senso di appartenenza di attaccamento al lavoro di uno che lo vive in prima persona di uno che potrebbe morire sul campo di infarto perché la vive in maniera proprio viscerale come dovrebbe essere ed è questo che ci fa innamorare del calcio e che ci fa rispecchiare in certi tipi di figure calcistiche che oggi ce ne stanno sempre meno quindi sono assolutamente d'accordo con te più Eziovino Capuano e meno vabbè non mi fate tipo le squadre italiane in Europa guardo le squadre italiane cioè qualcuna sì tipo l'Atalanta partecipo con trasporto perché diciamo simpatizzo per tutte quelle squadre che stanno vivendo un sogno perché è una testimonianza che se tu fai le cose per bene i risultati li ottieni neanche se non te chiami Juventus Milan o Inter quindi sì partecipo ecco l'Atalanta spero che arrivi più in fondo a prescindere da magari gli odi che ci possono stare da Roma i bergamaschi in Ceponovete e viceversa e quant'altro io adesso sto parlando esclusivamente di progetto calcistico partecipo con trasporto non mi metto a tifà però partecipo con un discreto entusiasmo come il Parma Tenevio Scala tanti anni fa insomma che vinse alla sua prima partecipazione alla Coppa dei Coppa cioè comunque sono piccoli sogni calcistici le piccole realtà che fanno bene al calcio a tutto il movimento calcistico secondo me per il resto non è che tifo contro ma non me ne frega una mazza sinceramente detto proprio in maniera io sono tifoso non me nascondo dietro a un dito non voglio fare lo youtuber della situazione che ama tutti io non amo tutti se quel calcio lo racconto se devo raccontare che per dire ne so la Lazio ha fatto una grande partita lo dico ma questo non significa che so contento ecco bisogna essere onesti con la gente io se devo fare se devo fare un giudizio classistico cerco di essere onesto poi il mio pensiero il mio desiderio magari è totalmente all'opposto francesco marchionne che ne pensi di questo pescara che come al solito che come ogni anno non è né carne né pesce che se magari in anello cioè l'anno scorso sembrava fino a che te posso dire novembre che poteva puntare tranquillamente magari anche al secondo posto e poi piano piano si è ammosciato è così anche quest'anno credo che sia così Eregazio Pertufello Grande Gigi secondo te nella seconda parte della stagione come vicegeco è meglio puntare ancora su Kalinic oppure prenderesti oppure prendere altri come ad esempio un Petagna grazie e sempre Forza Roma allora rispetto al Kalinic di adesso quello che comunque ogni volta che entra è impalpabile forse un Petagna ci starebbe bene non perché lo consideri un grandissimo bomber ma perché è utile al collettivo è utile alla squadra non ha sicuramente le caratteristiche di Giego nel senso non ha la delicatezza la sensibilità dei piedi di Giego non ti può diventare il suggeritore sicuramente ma è uno che si mette lì allarga le braccia e fa salire la squadra con una spizzata con uno stop sa comunque difendere il pallone ogni tanto la butta dentro non credo che sia sto grande bomber l'anno scorso si ha fatto 16 gol ma la metà tipo erano carci di rigore però ecco come vice Giego ci può stare poi chiaramente un Pinamonti magari a livello tecnico si lascia preferire anche come successive che ti posso dire di Plus Valencia che oggi si parla sempre di Plus Valencia come successiva crescita Plus Valencia a me non mi piace perché se c'è un giocatore forte anche giovane preferisco portarmelo fino alla fine della carriera so che attualmente non è così che vi devo dire preferisco sì un Petagna attualmente anche se non mi fa impazzire però lo trovo abbastanza funzionale al gioco la squadra Madara Uchiha spero di aver letto bene se la Lazio vince lo scudetto che fai? niente come non ho fatto niente l'altra volta mi preparo per vincere quello successivo dell'anno dopo tutto qua Federico Tottone grande cosa in più l'Inter rispetto alla Roma escluso aspetti economici e finanziari secondo te forza Roma beh allora a livello di qualità della Rosa secondo me qualcosina in più ce l'ha e te faccio esempio in attacco noi abbiamo il solo Dzeko che quest'anno come lo scorso anno non sembra essere un cecchino infallibile è utilissimo perché comunque te fa reparto te diventa suggeritore comunque io non vinucerei mai a Dzeko ma non c'è sicuramente due bocche di fuoco come Lukaku e Lautaro Martinez ok a centrocampo magari a livello quanti cioè noi centrocampo nostro se io penso alla qualità del centrocampo nostro mi viene in mente vere tu che però è più quantità poi Lorenzo Pellegrini però diciamo che noi giochiamo con un modulo diverso però comunque anche Lorenzo Pellegrini che ci ha delle giocate geniali ancora non ha quella continuità che tu dici ogni partita è il migliore in campo va a sprazzi in quegli sprazzi dove comunque fa la differenza io glielo riconosco insomma tipo con la spalla primo tempo inguardabile secondo tempo tra i migliori credo che l'Inter abbia qualcosa in più anche a centrocampo Sensi Parella Brozovic Vesino Borca Valero cioè comunque ha secondo me una maggior quantità e qualità non tantissima però di più a livello difensivo magari ecco noi abbiamo Smolling e Mancini ce la possiamo battere con i loro però a livello dei portieri Andanovic è più forte di Paolo Lopez con tutto il bene che potremmo volere a Paolo Lopez per cui sì l'Inter ha qualcosa in più l'allenatore è un motivatore pazzesco non che Fonseca Fonseca mi sta piacendo e ha anche molto però insomma Conte quantomeno a livello di campionato ha qualcosa in più sa motivare perché l'Inter sta sempre sulle corde sul pezzo partita dopo partita la Roma comunque c'ha dei cali la Roma c'ha un andamento altalenante in questo campionato per cui sì attualmente c'ha qualcosa in più bene sono finite le domande penso di aver risposto a tutti quanti come ho detto le risposte non me le sono preparate le ho lette insieme a voi adesso per la prima volta spero di aver risposto adeguatamente e niente vi auguro una buona serata e ci vediamo domani con delle nuove domande ciao 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 ciao